Un appuntamento fisso che si rinnova di anno in anno in occasione delle festività natalizie, stiamo parlando del nuovo calendario della Proloco di Castrovilla, riarrivata all'undicesima edizione, è presentato nel Teatro Sibaris, quest'anno nei 12 scatti realizzati da Stefano Ferrante dal titolo Civitanova 2016, le bellezze del centro storico La Civita, un percorso iniziato con la manifestazione Civitanova e ripreso dall'almanacco come in una sorta di continuità. Da continuità a quello che è il progetto più ampio di Civitanova che si è concluso a settembre ma continua anche nel periodo invernale per poi tutte queste iniziative essere un'apripista per la prossima edizione 2016 che vogliamo che sia ancora più coinvolgente, ancora più bella, ancora più partecipata rispetto a quello che siamo riusciti ad esprimere nel 2015, quindi tutto questo sarà propedeutico a un grande evento del prossimo anno. Il centro storico si anima grazie alla partecipazione dei piccoli della Proloco, degli anziani, del centro aggregazione sociale Varchasia di Castrovillari e dei componenti del gruppo folclorico della Proloco. Alla presentazione del nuovo almanacco per il quale si è voluto creare un vero e proprio spettacolo erano presenti il presidente della Proloco Eugenio Iannelli, il direttore artistico Gerardo Bonifati, il professor Leonardo Lario della consulta scientifica della Proloco, lo storico Gianluigi Trombetti, il presidente della FITP, Federazione Italiana Tradizioni Popolari, Regione Calabria, Maria Teresa Portella, il presidente provinciale Umbri Domenico Bloisa e la dottoressa Marica Magnelli, rappresentanza del Circolo Cittadino. Il calendario Civita Nuo è stato presentato attraverso il backstage realizzato da Arca Communication e sottolineato dal video prodotto da un giovane castrovillarese realizzato proprio nella Civita, Davide Trapani, e impreziosito dalla interpretazione di una poesia di Luigi Russo, Pinda città vecchia, letta da Franco Pirrera, con il sottofondo di Civita Red interpretata dal direttore artistico della Proloco Gerardo Bonifati e accompagnata dal maestro Camillo Mafia alla Fisarmonica. E poi la performance teatrale in vernacolo degli anziani del Centro Sociale Varcasia, preseduto da Carlo Sanggineti dal titolo Matrimonio Portato, a portare i saluti al pubblico presente, il sindaco Domenico Lopolito e il suo vice Angela Lopasso. Sono contenta di essere qui questa sera, di essere stata testimone di questo evento e di questo calendario, l'avevo visto negli anni scorsi ma quest'anno ci siamo noi. Devo dire che il fatto che si sia ricordata la Civita Nuova è una cosa importante, prima di tutto perché il centro storico appartiene alla città, o forse diciamo che la città appartiene al centro storico e che nei nostri intenti dell'amministrazione Lopolito è sicuramente quello di tenere viva l'attenzione sul centro storico ma di viverlo il centro storico, in un modo o in un altro. Ho sentito molti suggerimenti questa sera, li accogliamo tutti. Chiaramente metterli in pratica non è semplicissimo ma io vorrei partire proprio dal titolo Civita Nuova, che è il latino Civitas Nuova, Civitas vuol dire sia città, sia luogo, sia cittadinanza. Quindi questo secondo me è importante, essere cittadinanza, appartenere a un luogo, sentirlo nella propria storia, nella propria memoria come queste foto fanno ricordare, è un legame tra passato che sono gli anziani e il presente, il futuro che sono i giovani, i piccoli. E' in mezzo noi la generazione che deve essere non soltanto generazione del dire ma anche del fare, del mettere in pratica la cittadinanza attiva. Assessore, in effetti in questo calendario c'è la regia, c'è l'ideazione grafica, ci sono gli attori, c'è il fotografo, c'è la grafica, c'è la stampa, tutto con materiale umano, mi perdonerà per la parola materiale, umano di Castrovillari. Cioè dimostrano questo tipo di progetti che ci sono tantissime professionalità nella nostra città. Assolutamente, è così. Credo che siano anche professionalità che ci sono sempre state, che però in questo momento si sentono forse più stimolate ad essere presenti ma anche a far sì che la città si senta di nuovo a città. Cioè in questo caso io credo che le professionalità debbano essere al servizio della cittadinanza, non autoreferenziali, altrimenti non c'è senso, non c'è collettività. In questo caso io credo che la storia ci ha insegnato, che farsi cittadini, diventare, scusa se sto ripetendo questo concetto, ma per me è fondamentale, l'appartenenza a un luogo, non è il luogo soltanto nostalgico. Noi dobbiamo avere, mi è piaciuta molto questa frase in questi giorni, nostalgia del futuro. Cioè dobbiamo credere nel futuro, da adesso in poi. Cambio di scene sul palco, la musica tradizionale della Zampogna, a cura del maestro Luigi Stabile, che ha eseguito canzoni della tradizione natalizia. La chiusura dell'evento è stata affidata all'esibizione dei piccoli della Proloco, magistralmente diretti da Valentina Grisolia, che hanno raccontato attraverso i canti e balli della tradizione castrovillarese il ciclo dell'acqua. Ancora musica etnica, questa volta affidata ad un gruppo tutto castrovillarese, il ritmo nuovo. E poi tutti a degustare le tradizionali vecchieredde, frittelle tipiche del periodo natalizio, cucinate dalle sapienti mani delle donne del centro sociale, accompagnate dall'ottimo vino offerto dalle cantine di Morano Calabro.